Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa di G di Milano. Brusca inversione di tendenza sulle borse europee dopo un'apertura in netto territorio positivo questa mattina. Gli investitori non sembrano essere rimasti troppo impressionati dalle decisioni della Federal Reserve di ieri sera, dato che molte di queste erano già ampiamente scontate nei prezzi. Il calo sui listini però è arrivato dopo le parole del presidente dell'EBA, il quale ha fatto sapere che anche le banche che hanno superato gli stress test non dovrebbero sentirsi al sicuro. Queste dichiarazioni hanno messo nuovamente sotto pressione il comparto bancario, risultato già uno dei peggiori ieri a livello europeo. In Italia le sospensioni a ribasso hanno riguardato ancora una volta le banche popolari. La peggior performance rimane quella di Banca Montepaschi di Siena, che segna un calo teorico di oltre 10 punti percentuali. Le prospettive rimangono ancora ribassiste sul titolo, almeno fin tanto che non verrà definito il piano di ricapitalizzazione entro il 10 novembre prossimo. Tra le valute recupera il dollaro statunitense verso le principali divise mondiali, dopo che nel comunicato della Fed di ieri sera non è stata fatta alcuna menzione sulla forza recente del biglietto verde come potenziale downside risk. Il mercato è stato colto di sorpresa e i forti acquisti nelle ultime ore sul biglietto verde ne sono una dimostrazione. Il cambio euro-dollaro è passato dall'1,2770 di ieri a 1,2555 questa mattina, tornando così ai minimi da inizio mese. Il supporto principale rimane in area 1,25 dove è attesa una forte reazione tecnica. Ma il cross oggi rimane sotto i riflettori in vista dei dati sul PIL statunitense e dell'influazione preliminare di ottobre in Germania. Per allontanare le pressioni ribassiste di brevissimo termine è necessario superare area 1,26 e 1,2610 che potrebbe proiettare il cambio verso l'1,27. Il forte apprezzamento del dollaro sta pesando anche sulle commodities, con l'oro che è tornato a mettere pressione ai 1.200 dollari l'oncia, risultando così ai minimi da inizio mese di ottobre. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e buon trading. Grazie.